Antonio era un ragazzino di Mazzara del Vallo, una piccola città della Sicilia, con un grande sogno nel cassetto, diventare un calciatore professionista. La sua vita ruotava intorno al calcio, trascorrendo ore sul campo di terra battuta vicino a casa, tenendosi alla larga dai ragazzini che percorrevano invece un'adolescenza legata alla microcriminalità. Fin da giovane Antonio mostrava un talento naturale e una grinta eccezionale. Il suo calciatore preferito era Rino Gattuso, da sempre stato il suo modello, anche nel suo stile di gioco. Antonio veniva notato dagli allenatori locali per la sua abilità nello spezzare il gioco avversario e nel recuperare i palloni. La sua squadra giovanile divenne ben presto una delle migliori della regione, grazie anche alle sue prestazioni sensazionali. Tutto sembrava procedere verso la realizzazione del suo sogno, fino a quel fatidico giorno. Durante una partita decisiva, Antonio subì un brutto infortunio al ginocchio. Dopo mesi di terapia e riabilitazione, il verdetto dei medici fu chiaro. Non avrebbe più potuto giocare a calcio a livelli competitivi. Fu un colpo devastante per Antonio. Il calcio era la sua vita e l'idea di dover rinunciare al suo sogno lo gettò in una profonda tristezza. Trascorreva giornate intere a casa, rifiutando di vedere partite o di parlare di calcio. Fu grazie a suo padre, un appassionato di radio, che Antonio scoprì una nuova strada. Ascoltando i commenti delle partite alla radio di Fabio Caressa e Sandro Piccinini, due famosi telecronisti italiani iniziò a immaginarsi dietro il microfono, condividendo la sua passione e conoscenza del calcio. Antonio iniziò a studiare giornalismo con grande entusiasmo. Partecipava a corsi di dizione e si esercitava commentando partite da solo nella sua stanza, registrando la sua voce. La sua determinazione lo portò a ottenere piccoli incarichi in stazioni radio locali, dove rapidamente guadagnò popolarità per il suo stile unico e coinvolgente. Dopo anni di duro lavoro, Antonio ottenne l'opportunità di commentare partite per una grande emittente televisiva. La più grande abilità di Antonio era il ricordare ogni minimo aneddoto di ogni singolo calciatore, conoscendo nomi e numeri di maglia a memoria, compresa la loro storia calcistica, senza alcun bisogno di appunti o note. Inoltre, la sua capacità di trasmettere emozioni e fornire analisi tecniche dettagliate lo rese un commentatore amato e rispettato. Antonio capì che, sebbene la vita avesse preso una direzione diversa da quella che aveva immaginato, aveva trovato un modo diverso ma altrettanto appagante di vivere la sua passione per il calcio. La sua voce divenne una fra le più riconosciute e apprezzate nel mondo del calcio, portando con sé il ricordo di quel bambino che sognava sui campi di terra della Sicilia. Grazie per la visualizzazione! Se non è un problema, supportaci iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale. Grazie per la visione!